Buongiorno a Marco Tiberi. Buongiorno a Pippo Civati. Come va? Ma è un incanto, è tutto bellissimo. E cosa dico? Sono tantinello in attesa, francamente. Di che? Non lo so, il 24, il 25, mia zia, mia mamma, li vedo, non li posso vedere, stiamo chiusi, non stiamo chiusi, è un Natale... quando ce lo diranno? A Santo Stefano. Ah vabbè, allora stiamo tranquilli. Sì, stiamo tranquilli. Possono anche spostarlo al 25 aprile, il Natale, così diventa un po' più laico, non so. È una liberazione proprio, eh? A quel punto speriamo che sia tutto risolto. Tu come stai messo lassù? Ma non solo lassù, su Roma, facciamogli scemi. Questo giochetto... A Roma perché sto cercando casa editrice a Roma, diciamo, e quindi magari... Ah, bello, per Pippo, una cosa bellissima. Per Pippo sì, la nostra casa editrice è People, come sappiamo. Comunque, so che sei alle prese con una nuova serie, cioè in realtà un cinepanettone, se non ricordo male. Beh sì, basta con la televisione, bisogna aiutare il cinema italiano, il grande cinema italiano che nel mondo ci dà lustro e quindi ispirandomi a un fatto di cronaca piuttosto recente che appunto ha dato lustro al nostro paese, io starei scrivendo Natale in Libia. Ci sono due protagonisti, i protagonisti sono un premier e un ministro degli esteri che vanno in questa zona esotica a recuperare alcuni pescatori che lì sono stati trattenuti indebitamente. E c'è tutto il meglio, diciamo, dell'italianità possibile, tutto quanto fatto, diciamo, di fronte a tutti, tutto mostrato, per dare al mondo il senso della caratura che il nostro paese ha a livello internazionale. Mi sembra proprio che ne valga la pena. Siamo tutti molto contenti per i pescatori, ovviamente questo lo diciamo, un po' meno per quella figura che i nostri Boldi e De Sica sono andati a fare, diciamo, di fronte agli occhi di tutti in quel posto e non si capisce bene perché. Che dici? Può funzionare? Non lo so, c'è un quotè, come dire, un po' inquietante perché ci sono i campi libici che dovrebbero chiudere, sai quelli che ha fatto Minniti con l'accordo, lì non se ne parla Natale in Libia. No, beh no, di questo non ne parliamo. E ho anche un'altra domanda, scusate, visto che ho un braccialetto così, non è che allungano e fanno anche Natale al Cairo, diciamo, e vanno a prendere Patrizacchi che sarebbe ora che... Mi sembra un po' difficile. Su questa questione direi che vige il pessimismo della volontà e l'ottimismo della legione d'onore, ecco, questo mi sentirei. Una legione d'onore, è una battuta alla Tiberi, che è un po' come quei colpi, diciamo... Sono quelle cose che uno non costruisce per niente, capisci? Quelle cose che vengono da possibilità. Vabbè, ok, quindi è una legione d'onore e di disonore, intanto è caduto... È caduto? Vabbè, cosa è caduto? È caduto l'ultima morte di Peppe Bortone, ma era anche questo previsto perché... È stata questa la sua ultima morte, definitiva proprio. Esatto, e invece ti dirò che sta andando molto bene e che ci sono un sacco di apprezzamenti che arrivano alla redazione di People, come sapete è un romanzo che Marco ha appena scritto e uscirà in libreria a gennaio, ma se volete sul nostro sito peoplepub.it... Ma non cambiamo discorso, non cambiamo discorso, perché qui è di un altro libro che invece dobbiamo parlare. Stavamo prima parlando dei politici, politicanti e con grandi responsabilità che si occupano essenzialmente di narrazione e la realtà la mistificano, c'è invece chi la politica la fa in altro modo, diventa narratore e la realtà la disvela. So chi è. Speranza, anche se il libro non si trova. Roberto Speranza, il libro Feltrinelli dove sta? Ci vai, ci vai, ti stai schermendo, sei schermitore. C'è anche uno schermo davanti. Io stavo parlando, lasciami fare, di questo volumetto piccolo, ma grandissimo, che People intende regalare a chi acquisterà i suoi libri per le vacanze di Natale, si chiama Incanto di Natale ed è un testo narrativo del cui presente Giuseppe Civati. Giuseppe Civati, che sa che la politica si può fare in tanti modi e in questo momento si fa soprattutto facendo cultura, ci regala un piccolo racconto di Natale di Ispirazione di Kenziana, che ci parla della questione più grande di tutte, l'unica veramente importante. L'aumento delle disuguaglianze, il potere e le ricchezze concentrate in pochissime mani e però badate bene, badate bene, non lo fa con l'ampollosità. È ancora vivo Civati, perché sembra una di quelle cose che si scrivono dopo. E quindi ne scriverà ancora, infatti ne scrivo anche un altro del quale se poi volete vi parlo. Comunque dicevo badate bene, perché il Civati non fa quelle cose ampollose della vecchia sinistra stantia con quelle parole che tutti conosciamo e che ormai non sappiamo più cosa vogliono dire. Il Civati si mette dalla parte dei cattivi e ci dimostra che se non ci mettiamo tutti un po' d'accordo e se non cambiamo il nostro sistema, non c'è nessuno che starà bene, nemmeno quelli che adesso stanno benissimo. E ribadisco, Dickensianamente ci parla di un Natale che Dickens non poteva immaginare e cioè l'ultimo che probabilmente sarà il prossimo. Leggete Civati, perché è veramente una bella esperienza. Io che devo dire, l'unica cosa che posso aggiungere, oltre a ringraziare questo podcast, sta diventando un po' un farsi complimenti a vicenda, fortunatamente abbiamo quasi finito i libri. No, e infatti vi ricordo in Canto di Natale che Pipo regala a tutti. Volevo farvi vedere le illustrazioni di Tommaso Catone che ha fatto anche la copertina che è bellissima, che forse rendono la pubblicazione indignitosa diciamo, perché per il resto insomma mi schermisco e mi schernisco, che è un errore che fanno in tanti ma che a me è sempre incuriosito tanto, l'idea di schernirsi attraverso uno schermo. Senti, comunque la verità è questa, che come saprai noi stiamo lavorando al prossimo numero di ossigeno, che faccio vedere, questo numero bellissimo, è dedicato alla questione nera e del razzismo in Italia, è un'edizione, cioè io non lo so, non ci sono riviste belle così, in giro. No, soprattutto è enorme, ci sono tantissime cose, è bellissimo. Poi io faccio il cruciverba quindi insomma c'è anche una ragione importante, tra peraltro come sapete chi fa l'abbonamento ossigeno riceve quattro numeri di ossigeno, che è un trimestrale all'anno e quattro libri del momento di Pipo, quindi insomma una super offerta. Io sta casa editrice prima della Io rinnovo, rinnovo sempre la mia domanda, voi ci campate così siamo sicuri. Noi vogliamo battere Conte e chiudere prima di Conte, del governo Conte, questa è la sfida, lui ce la sta mettendo tutta ma noi ce la faremo. Ti dicevo che il prossimo numero partirà da una figura della mitologia e della tragedia greca che si chiama Crisotemi, di cui parlo accenno nel libretto. Sì sembra una cosa, sto andando troppo alto. Vai sempre su, troppo su, perdonatelo. Crisotemi abbassa subito, cioè Elettra è quella che dice resistere, sapete la storia, se non la sapete andate a vederla perché noi possiamo passare tutto il podcast a spiegare questa tragedia che è di Sofocle nel caso specifico. Comunque Crisotemi è la storia. La cui ossigeno, scusate devo abbassare il mio ruolo. Sofocle e ossigeno. A fronte di Sofocle serve un po' di ossigeno. Ok, io non so se faremo mai più podcast, comunque dicevo che Crisotemi è la sorella che abbassa e dice ma perché ribellare, perché aspettare Oreste che poi che notte lo vedi arrivare tipo deliberù Oreste che arrivano sempre da lontano tutti i travestiti, tutte le volte si confondono le tragedie greche. Però il punto è che dice ma perché prendersela con il potere? Allora Elettra le dice ma tu vuoi che io tradisca i miei legami familiari? Cioè come dire, lei dice no, io voglio che tu compiaccia ai potenti, che tu sia a disposizione dei potenti, che tu conviva con il potere, diciamo una specie di servitù volontaria che secondo me è quello che sta succedendo in questo momento. È come il covid insomma, dobbiamo imparare a convivere con il potere. No, con il potere stiamo convivendo già, infatti hanno già smesso di parlare di patrimoniale, hai visto? Una settimanella. Ma non l'avevano fatta? Ma no, ma figurati bene, ne parlano un po', poi se ne parlano male, la spiegano peggio. Patrimio male, diciamo anche un po'. Stai un po' esagerando le battute, però ieri, per alzare il livello ancora un pochino, poi ci dedichiamo al nostro gioco dello Iolo Bocaflod che ci diverte sempre. Ieri ho incontrato Donatella di Cesare che ha scritto un libro bellissimo per aiutare una piccola casa editrice che si chiama Bollati Boringhieri. Il titolo è Il Tempo della Rivolta. Sì. Ragionavamo proprio su questa scomparsa del potere che si nasconde in realtà, contro il quale le persone non sanno bene neanche di misura a prendere. Spesso la versione è quella del complotto, dell'immaginare che questo potere sia sempre cattivo, ma anche, guardiamo quello che è successo, c'è gente che ha passato tutta l'estate a dire che il Covid non c'era più, no? Non si è dimesso nessuno di quelli stronzi che è andato a giro a dire, nessuno, tutti bravi. Adesso anzi dicono che bisogna essere restrittivi, bravi. Chissà la settimana prossima, che dici. No, la settimana prossima è il contrario, è il concetto delle targhe alterne, diciamo, è questa cosa qua. Non so se te le ricordi le targhe alterne tanti anni fa. Sì, beh, noi si affrontiamo i cambiamenti climatici a Roma con questa cosa. Sì, pensa che, ecco, infatti, sono talmente utili che non servono a nulla e rompono solo le scatole. Esattamente come i politici di cui parlavamo prima. Dicevo però che questo potere che si nasconde, che si, beh, di Cesare cita Foucault, insomma, tutte cose complicate troppo alte, forse mi dirai tu. Fa un po' come le pare, qui ormai hai preso questa ire oggi, non so come uscire. Cita anche Claude For e il vuoto di potere, però il tema interessante è che questa rivolta che c'è, che attraversa il pianeta, è una rivolta che cerca un faccia a faccia con questo potere, lo cerca, cerca di provocarlo. Di Cesare usa un'espressione bellissima che troverete nel prossimo numero di ossigeno, che è quello di una prefigurazione, cioè il potere non va combattuto in modo classico, anche perché non si sa dove si trova, non c'è una proposta, un'organizzazione politica che vi si contrappone perché la politica l'abbiamo buttata via, non serviva più come un fello a vecchio, ma appunto, però nello stesso tempo c'è la possibilità di prefigurare qualcosa di diverso. In questo senso ovviamente una delle chiavi centrali è quella climatica, che come sai per me è fondamentale. Peraltro sul mio blog se volete ci sono una serie di consigli di libri per Natale sulle questioni ambientali e climatiche che vi consiglio di leggere. Quasi nessuno è di Vipol, lo dico perché sai che… Anche quelle questioni centralissime al momento di cui si parla tantissimo. Hanno già smesso, secondo me la fine del mondo ci sorprenderà e non avremo nulla da metterci, diciamo, se usciremo direttamente in pigiama. Ma però, come dicevamo, bisogna che recuperiamo un po' noi stessi il nostro aplomb. Abbiamo gli ultimi regali dell'anno, li abbiamo detti, c'è Incanto di Natale, c'è Loizzi, c'è la promozione per gli abbonamenti a ossigeno, ci sono tutti i libri, ce ne sono di bellissimi, dopo ne leggerò uno in particolare che forse è il libro per me davvero del Natale, di questo Natale, che abbiamo pubblicato e che altro aggiungere? Ah, faremo anche una promozione tra Santo Stefano e… Nella finestra? Nella finestra? E sembra che tra Santo Stefano e nella promozione della finestra da aprire per prendere più ossigeno, appunto. E di che promozione si tratta, Civati? Di che promozione si tratta? Ma ci sarà un libro che si chiama Fine, ci sarà Incanto di Natale, ci sarà anche un'altra cosetta che ho scritto io, però è molto bella, è su un Re Maggio che torna a casa, perché nessuno si è mai chiesto dove vanno a finire i Re Maggi. Quando torna lì indietro. Quando c'è la fometa e quando sono sulla rivalta tutti… Perché sapete cosa c'ha Civati proprio di suo? Che si chiede quello che gli altri non si chiedono e si dà anche delle risposte e questo è sempre molto bello e ci dà anche delle risposte. Per seguire i discorsi di Pippo ci serve un vocabolario Civati di Maio, diciamo un… Più difficile il contrario mi sentirei di dire ai siberiani. Forse anche uno Zingaretti diciamo basterebbe, questo era un po' bello. Questo era sottile. Un Zingaretti è vuoto, ha le pagine bianche, le famose parole di… È come quello su Salvini tutto bianco che… Questa è una critica che non so se posso accettare fino in fondo. Salutiamo il compagno Nicola, poi magari nel 2021 dirà qualcosa. Magari nel 2021 si sblocca anche… Ha fatto un fioretto, quest'anno non diceva niente. L'anno prossimo… Quest'anno niente, c'è un anno difficile, come il calciatore si sblocca, ne segna uno di culo, sai, magari dicono un rimpallo e poi ti vince tu, fa tutte le cose che deve fare. Ma noi avevamo detto che facevamo il gioco dello Yolo Bokaflod. Yolo Bokaflod, ci spieghi scusa brevemente di nuovo di cosa si tratta? Perché forse c'è qualcuno a cui è sfuggita questa trovata civadiana appunto. Yolo Bokaflod è una tradizione nata in Islanda nel dopoguerra, non c'erano soldi. Non so se avete qualche affinità, sentite qualche affinità. Poveri, nemica come noi. Nemica come noi che stiamo andando tutti a sciare e hanno deciso che il libro era un buon regalo e soprattutto erano un buon modo per passare la vigilia, il giorno di Natale, le festività, leggendoli insieme, magari ad alta voce, intorno al fuoco. Insomma, mi sembra un'immagine molto forte. L'Islanda è un paese molto particolare, che ha una letteratura, tra l'altro, che consiglio tantissimo. Ovviamente non la publica people, aiutiamo una casa editrice tipo iperborea che stimo moltissimo, sempre per fare un regalo, ma che poi non lo è, perché la cosa bella è poter leggere libri che siano fatti bene. Tra l'altro posso abbassare un pochino? Non lo so, tra un po' stiamo a scendere dal primo piano. Adesso questo Natale sarà diverso, però voi pensate che bello, quelle grandi tavolate, invece di sentire i discorsi di quello zio che vedete una volta all'anno e però quella volta all'anno dice sempre la stessa cosa, o del cognato che vi è antipatico, pensate che meraviglia invece leggere delle belle pagine di grande letteratura. È una cosa anche utilitaristica, diciamo, se non necessariamente per forza alta, civatiana. Può tornare molto utile. Volevo dire questa ciocchezza, però ci ho pensato, mi sembrava bello. Allora, io inizio provocandoti, perché mi sta venendo una fissa. Sai quest'idea di viaggiare da fermi, a cui saremo costretti per dei vari decreti? Allora, io consiglio un grande revival di Salgari. Ah beh, qui mi invidi a nozze. Ti invito a nozze per due ragioni. Prima perché ti consiglio di Silvino Gonzato, La tempestosa vita di Capitano Salgari, che è un libro fantastico, secondo me, perché spiega proprio... Lui era un bugiardo patentato, un inventore di storie al di là di ogni... Cioè, pensa che annusava il tappeto persiano della zia per... Lui era uno così, viaggiava nell'esotismo. Magari potete farlo anche voi. Ma aveva un metodo molto preciso per ricostruire. Quindi anche stando a casa o in biblioteca civica a Verona, perché Verona era veronese, Salgari riusciva a ricostruire mondi che non avrebbe mai visitato e a trasferirli ai lettori. Ma lo dico pensando a Peppe Bortone, che è spinto anche al Far West. Certo, c'è un Salgari meno noto con storie del Far West. Esatto, dall'estremo oriente, quindi sulle frontiere del Far West, secondo me è una lettura che per te potrebbe funzionare, ovviamente, abbinata assolutamente al tuo romanzo. Cioè, tutti i miei leggi... Ma il mio romanzo viene anche da lì, sai. Ma sì, c'è. Chi non ha conosciuto l'esperienza, se non avessi conosciuto Salgari e anche il suo modo di viaggiare da fermo, sicuramente non sarebbe uscita questa piccola cosa che tu stai così gentilmente gratificando. Che spero che piaccia a chi ha avuto modo di leggere. Allora, invece, attacco con una lettura io, poi ti lascerò il gran finale. Anzi, ne facciamo due. Abbiamo un sacco di tempo oggi. Siamo veloci perché, insomma, è Natale, bisogna fare in fretta. Non sappiamo neanche come lo... Ma poi chi è che possiamo vedere Natale? No, visto mai esce il DPCM, non è che possiamo stare qui occupati. Io devo chiamarmi Cognato e devo capire... I podcast sono vietati dopo le 12. Ok, famo le 11. No, va bene. Allora, il libro del Natale di People, se posso, facendo... Sono ingeneroso verso gli altri, è questo qua. Ah, che meraviglia. Ioannes Bueckler, Non esistono piccole donne, seguito di Non esistono piccole storie, che se possibile è ancora più bello. E anche il libro che stiamo vendendo di più, pensa un po', chi l'avrebbe mai riponato. E se lo merita, io, insomma, se lo merita veramente. Bueckler si trasforma, interpreta le persone, perfettamente le persone di cui parla. E quindi il suo è un racconto in soggettiva, come se fosse una piccolissima biografia, autobiografia. Ci sono personaggi strepitosi. Insomma, uno dei ritratti, dei racconti più forti è dedicato a Irma Vandiera, per esempio. Ma ecco. Però io volevo leggervi le pagine che Bueckler attribuisce, o finge che siano, anche perché noi non sappiamo chi è Bueckler, nessuno di noi lo sa. Secondo me nemmeno Bueckler sa esattamente chi è. Tu sai che per me questo è fondamentale. Abbiamo parlato tante volte dell'autore che deve spostarci, togliersi, levarci dalle sue opere. Quindi abbiamo uno che si nega a tutti, che parla in prima persona e in questo caso addirittura si fa donna. Anzi, magari Bueckler potrebbe anche essere una donna. Sì, lo sospetta anche Gabriella Grayson, che è una donna molto intelligente, che dice Cioè a un certo punto forse Bueckler era una donna, chi lo può sapere? Però ti leggo di Zelda Fitzgerald il suo racconto, lasciami l'ultimo waltzer. Lo dico subito per evitare equivoci. La mia storia non può essere raccontata in poche righe. Tali e tante sono state le vicissitudini che hanno caratterizzato la mia vita. Non ultima la mia morte. Quindi poi approfondite, ne varrà la pena. Di me hanno detto e scritto di tutto. Icona di una generazione? Vero. Una party girl scatenata? Esagerati. Donna fragile e sfortunata? Insomma. Moglie amata e allo stesso tempo odiata, che ha incarnato l'idea di divertimento senza remore e senza preoccupazione. E si chiede Zelda, è un male? È vero, sono sempre stato un maschiaccio, ma non è tutta colpa mia, sempre se di colpa si può parlare. Se sono cresciuta viziata e presuntosa è un po' colpa di mia madre, che mi amava talmente tanto da secondare ogni mio capriccio. Mio padre? Un magistrato burbero e assente. Lei mi aveva chiamato Zelda, come la protagonista delle fiabe. A Montgomery, ai primi del Novecento, le donne erano considerate, e tali dovevano essere, dolci e remissive. O almeno questo era lo stereotipo della donna del Sud. Io ero alto, altro, molto altro. A scuola andavo bene, prendevo anche lezioni di danza, ma lo studio mi annoiava, preferivo vivere. Mi piaceva bere, fumare, ballare il Charleston e avere tanti, tanti fidanzati. Lo so cosa state pensando? Oddio che vergogna, scandalo, la solita storia. Eppure sarebbe bastato leggere quello che avevo scritto sotto quella fotografia scattata al college. Perché la vita dovrebbe essere tutta lavoro quando possiamo tutti prendere in prestito? Pensiamo tutti a oggi senza preoccuparci del domani. Beh, ammazza. E così feci per tutta la mia vita. Se mi permetti proseguo perché è molto bello questo. Certo, ti ascolterei per tutto il giorno. Avevo 18 anni quando durante un ballo incontrai il mio amore, Francis Scott Fitzgerald si chiamava, sconosciuto ai più, ci innamorammo perdutamente. Poi lui partì per New York e durante il distacco ci scambiamo per lettera gli anelli e una promessa di matrimonio, che si realizzò il 3 aprile 1920 con una favolosa cerimonia alla cattedrale di San Patrizio. Amici e parenti non approvavano quel matrimonio. Forse per l'alcolismo di Scott o forse per la sua vocazione cattolica. Io ero di famiglia episcopale. Me ne fregai dei loro giudizi. Diventai un modello per tutte le donne, degna rappresentante delle flappers, le maschiette, capelli corti come gli abiti e nessuna regola. Amavo fare festa, bere alcolici, stare sveglia tutta la notte senza pensare al futuro, solo il presente da vivere fino in fondo. So che avete scritto libri sulle mie abitudini e che sta per uscire un film sulla mia vita. Qui Bucler è geniale giocare con il racconto nella trasformazione, quasi una metamorfosi. Raccontate la verità che alcuni passaggi dei lavori di mio marito sono opera mia, che fu mio marito a trascurarmi mentre scriveva la sua opera massima, il grande Gatsby, e che per questo mi dedicai completamente alla danza, al nuoto e all'alcol, finendo così ricoverata diverse volte in ospedale per schizofrenia. Avete letto il mio unico romanzo, Lasciami l'ultimo waltzer, che scrissi in quel periodo? No, è un peccato, perché in quel libro racconta esattamente il rapporto con l'autore del grande Gatsby, il cui titolo per la cronaca è mio. La pubblicazione del mio libro lo fece andare su tutte le furie, mi accusò di aver reso note le nostre vicende matrimoniali, tipico di coppie che nascondono si reti, potremmo dire così. E' l'universalità del bugler in questo caso. E' l'universalità del bugler, diciamo proprio così, o bisogna lasciare il bugler nei racconti diciamo anche. Mi definì scrittrice di terzo ordine, forse aveva ragione, perché vendetti solo 1392 copie, ne uscì distrutta ancora una volta, ma a lui non andò meglio, ma al pagato e al misconosciuto al ritorno da Cuba fu ricoverato, non lo vidi mai più, una crisi cardiaca ne provocò la morte. Non riuscì nemmeno ad andare al funerale, feci il ritorno a Laila all'ospital e approfittai della diligenza per scrivere il mio secondo romanzo che non riuscì mai a completare. Nella notte del 10 marzo 1948 dalle cucine scoppiò un incendio e le fiamme divorarono l'intero sanatorio. Fu così che morì. Mentre l'incendio divampava, io ero reclusa in una stanza, in attesa la terapia è elettrocompulsivante, insomma mi stavano preparando per l'elettroshock. Ora io e Scott siamo sepolti insieme nel cimitero di Rockville nel Maryland. Ora conoscete la mia storia, sapete che sono morta a 47 anni e come? Ditemi, era così sbagliato voler vivere completamente il presente? Perché la vita dovrebbe essere tutta lavoro quando possiamo tutti prendere in prestito? Pensiamo tutti a oggi senza preoccuparci del domani. Beh, eh no. Ioan e Lugler, se non lo regalate a Natale siete dei matti. Matti proprio, matti. Allora posso leggerti invece una cosa alle quali sono legatissimo? Vai. Una cosa rara, strana, piccola, che non so neanche se si riesce a trovare ancora. Ve ne leggo un pezzettino perché è proprio bellissimo. Più mangio e più medito, anzi scusate, 13 ci sono l'orario. Più mangio e più medito, più trovo strampalata l'idea di stabilirmi sulla terra. Anzitutto questo significherebbe abbandonare la missione che è stata affidata a Gurb, scomparso e a me. Sarebbe un vero e proprio tradimento. Questa argomentazione peraltro non conta molto perché in definitiva tutto si riduce a una questione di principio. Io i principi me li metto in un posto che gli uomini chiamano sedere. Invece ha molto più peso l'argomento fisiologico. Ignoro per quanto tempo possa resistere il mio organismo nelle condizioni di vita di questo pianeta così grano. Non so quale tipo di pericoli mi minacci. Non so neppure se la mia presenza qui costituisce o no un pericolo per gli esseri umani. È dimostrato che la mia peculiare costituzione e la carica energetica che mi porto addosso causano problemi ovunque vada. Non può essere casuale che l'ascensore di casa mia sia sempre guasto o che i programmi televisivi comincino in ritardo quando io voglio vederli o registrarli. Anche poco fa, quando girovagavo per i corridoi dell'ospedale, ho colto una conversazione che mi ha allarmato. Un medico diceva a un'infermiera con la fronte aggrottata che stamattina le apparicchiature dell'ospedale sembravano impazzite. A quanto pare i malati che dovevano sottoporsi ai raggi X stavano ballando la lambada. Questi fenomeni inesplicabili, ha aggiunto il medico dalla fronte aggrottata, avevano cominciato a prodursi alle 10.50, come se quell'ora, concluso, fosse entrato un marziano nell'ospedale. Mi ha offeso che mi potesse confondere con uno di quei burini che sanno solo giocare a golf e parlare male del servizio, ma mi sono ben guardato dal manifestare la mia seccatura. Esiste sempre la possibilità di modificare la mia fisiologia adattandola alla struttura molecolare degli esseri umani. Se mi decidessi a farlo, dovrei scegliere il modello con la massima cura, perché il processo sarebbe irreversibile. È una decisione tremenda. Cosa succederebbe se una volta effettuata la mutazione scoprissi che non sono felice? Che ne sarebbe di me se la storia con la mia vicina finisse male? Sarei capace di superare la nostalgia della mia antica patria? Quale sarà la congiuntura economica dopo il 92? Troppe incognite. Se almeno avessi qualcuno a cui confidare le mie pene, decido di lasciare la mensa. Quando tento di pagare il pranzo scopro che la mensa non era un self-service. In realtà il luogo in cui ho mangiato non era una mensa. Esco senza essere visto. Questo si chiama Nessuna notizia di Gurb di Edoardo Mendoza ed è una delle cose più intelligenti e più divertenti che io abbia mai letto. Consiglio a tutti di cercarlo e se non dovesse essere più edito, se posso consigliare a People di vedere che si può fare. Perché è veramente un testo a suo modo fondamentale. Io sono d'accordo, mi fa impressione perché è stato un testo fondamentale anche per la mia adolescenza e siccome Franz Foti ci sta seguendo, secondo me sta già scrivendo a Feltrinelli per sapere. Sì dai Franz, sarebbe meraviglioso. Dai Feltrinelli che è già pubblicato tanto, mollaci Nessuna notizia di Gurb che con una versione magari, come dire, aggiornata con lo stesso Mendoza che ha continuato a scrivere cose molto belle. Sai che io ho vissuto a Barcellona per un periodo della mia vita. Infatti dovresti dire Mendoza come si dice perché so che fa piacere a tutti i nostri scrittori. Non me lo dirò mai, anche perché è catalano e quindi potrebbe essere. Comunque sì, bisogna addetare. Senti però io volevo per lasciare a te il gran finale ho proprio una cosina perché questa cosa di Buchler mi ha fatto venire in mente questo libro qua di una piccola casa editrice che si chiama Inaudi. Ah, non la conosco. Goliarda, Sapienza, l'arte della gioia. Un libro uscito postumo, per dire quanto gli editori a volte ci prendono proprio in pieno, che il finale, cioè lo spoilero, tanto è un libro grandioso, uno se lo può leggere mille volte, quando la protagonista si ritrova con un amore in tarda età. E senti che roba questa qua, ogni volta che la leggo non ci voglio credere. Sentiamo, io non la conosco, ammetto la mia ignoranza. Parlano tanto del primo amore, Marco, mentono come per tutto il resto. È così modesta, anch'io non avrei mai immaginato e purtroppo bisogna arrivare alla nostra età per saperlo. Hai visto oggi sul ponte come ci guardavano quei ragazzi? Ho quasi avuto la tentazione di dirglielo, ma non mi avrebbero creduto. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende come ora fa, o mi bacia fra le gambe proprio come Tuzzo faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi modesta? No. Pensi? Sì. Racconta modesta, racconta. Beh, bellissimo. E così. A noi ci piacciono gli incipit, però i finali. Quando sono così. Allora, io avevo una cosa più lunga da leggere, però il nostro tempo sta scadendo, e quindi credo che mi piacerebbe chiudere con una poesia. Sì. Una brevissima poesia che riguarda, secondo me, molto da vicino, riguarda tutti coloro che si occupano di immaginazione e quindi riguarda anche i people e anche tutti i lettori. La poesia dice così. Ogni mattina, per guadagnarmi da vivere, vado al mercato dove si comprano le bugie. Pieno di speranza, mi metto in fila tra chi vende Hollywood di Bertolt Brecht. E vabbè. Che io vuoi dire? C'è stava, no? C'è stava tutto. Io mi sono molto emozionato. La battuta peggiore di oggi è Frau Buchler. Verrà escusso Carlo Bertolt Brecht. Volevo collaborare, scusate. Esatto. Io direi che però terminiamo così, se riesco a... Sei in pieno sole, c'hai un effetto anni 70 bellissimo. Infatti, magari proseguiamo, ma in realtà non riesco più a finire la diretta. Non so per quale ragione. Hanno cambiato l'interfaccia e sono un imbranato. E allora andiamo avanti. Diventa subito, come si chiama? Maratono. No, abbiamo trovato il modo. Basta, ciao. È stato bellissimo. Ciao, arrivederci a tutti e grazie mille per averci ascoltati. Che è un incanto. Ciao. Un vero incanto.